E benvenuti a tutti ragazzi a questo nuovo video, io sono Benz, oggi siamo qui tornati in un altro episodio di Assassin's Creed Origins Mi sono appena ammazzato scendendo da un punto d'osservazione, però va bene Allora ragazzi, quest'oggi ho l'intenzione di andare a fare, o non è stato Voglio andare a continuare la missione principale andando a smaschera, ha la maschera della lucerta, è il titolo della missione E voglio andare a farla Quindi direi di procedere verso la statua del faraone per distruggerla e poi verso l'obiettivo Ci vediamo appena si è mai l'obiettivo Maggi! 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 Oh! No! 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 non devi fare così non devi fare così non hai più alcuna speranza Oddio mio ragazzi questo te lo lascio sono riuscito a uccidere uno di dei oh mio dio allora abbiamo appena ucciso ragazzi uno dei philakes quelli là tipo i super assassini e ragazzi ha dato questo quanto danno fa in più in fiamme oddio mio arco da predatore eccellente mamma ragazzi questo qua è da arrivare a livello 25 il prima possibile no vi giuro non vedo l'odio più pagiarlo mamma mia oddio sarà difficile ucciderlo perché vi lasciamo tutto quanto lo scontro però ragazza mamma mia tanta roba tanta roba perdonami ma l'accesso alle sale interne è proibito in questo momento allora aspetterò qual è il tuo nome vai ec di siua ah sapevamo del tuo arrivo entra pure ma cerca di non disturbare i riti forse il rituale non era completo l'hai ripetuto alla nausea so soltanto una cosa se nostro figlio non vivrà morirò no ti prego mio loto non dire così devo andare a casa del veggente lasciami sola no gran sacerdote ah Bayek chiedo scusa sono cerco la lucertola ah la lucertola l'ennesima sofferenza per menti che appassisce all'ombra di una maledizione malattie pestilenze odore di morte nell'aria il toro api stava quasi per morire gli dèi ci hanno dimenticati il popolo cerca in me una guida ma sono smarrito quanto loro Posh api come ti abbiamo offeso Posh la maledizione ha colpito anche me mia moglie Taimotep ha già perso tre bambini quest'anno ora è incinta ma se se perdesse il quarto scoprirò scoprirò che cosa accade va dal veggente di mia moglie casa sua è a sud ovest se gli dèi sono responsabili mi inginocchierò con te quando ci colpiranno oddio ragazzi una cosa sufficientemente strana va bene allora andiamo qui ok altra animazione cresci o luce avanza o luce mio figlio finalmente sei giunto chi è quest'uomo? lui è il salvatore per lunghi anni l'ho aspettato cosa? presto aiutami a strappare mio figlio dalla morte procediamo con il rituale portami qui il calderone io sono il maestro dei segreti la forma dell'anima che riposa nel cielo ragazzi sta roba qua vabbè fanno sorridere però c'è veramente gente che ci credeva tantissimo Sotis mostrati a noi qui oggi e rispondi senza menzogne che i tuoi occhi si aprano libero da ogni acqua vieni a noi dalla corrente Sotis fa sì che i loro occhi si aprano che i tuoi occhi si aprano oddio mio ragazzi vi giuro a me viene da ridere ma sarebbe da vabbè non spedate non devo perdermi per gli dèi in che posto mi trovo c'è qualcuno cosa è quella una specie di tomba oddio mio ragazzi che cazzo ce l'hanno fatto bere non devo fermarmi o il deserto mi indiottirà ragazzi io vi giuro non capisco che cazzo dio buono in pratica ragazze sono tornato ho ucciso il serpente c'è stata un'animazione fortunatamente mi sono accorto immediatamente che non stavo registrando oppure la luce è spento ok ecco fortunatamente stavo dicendo mi sono accorto che OBS non stavo registrando il gameplay ho solo l'audio però vabbè comunque ve l'ho saltato vi racconto in pratica ho ucciso il serpente ed è partita questa animazione c'era lui che nuotava in mare tutto buio e poi parte questa cazzina che succede papà papà ho vagato oltre la tomba in terre oscure e solitarie ma ora sono qui sono arrivato papà papà oltre la tomba Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io sono colui che respinge il distruttore. Io sono colui che annoda la corda e cinge il santuario. E' più debole. Tu non divorerai il mio cuore. Fa male, vero? Io prendo l'arco! Io prendo l'arco! Sono ritornati indenni da colui che sigilla gli occhi per sempre. Mio figlio è vivo. Ringrazia gli dèi. Che cosa vedi? Il suo nemico è anche il tuo. Rifiuta. Il cibo del tempio lo prepara. Ti avvelena con la carne dei morti. va, uccidi l'avvelenatore e rendi Menphi libera dal male. Sia lode a colui che ci salverà tutti. Dio, ragazzi. Ok. Oddio. Amore mio. Come ti senti? Molto meglio ora che sei qui. C'è qualcosa di strano nel tuo sguardo. Che ti succede? Ho sognato. Nostro figlio. Vai, Ecca. La moglie del gran sacerdote è stata avvelenata. Il suo veggente crede che l'avvelenatore sia chi cerchiamo. La lucertola? Credo di sì. Il toro api è ormai in punto di morte. Andiamo al tempio. Lungo la strada mi parlerai dei tuoi sogni. Vieni, saremo più veloci in barca. Allora, come ci si sente a essere il Mejjai di tutto l'Egitto? È come provare a fermare le formiche a volte. Ma sono orgoglioso di aiutare il popolo. Anche io. E sono orgogliosa di servire la regina. Hai parlato con il gran sacerdote? Sì, in preparazione all'arrivo della regina. Verrà qui a Menphi? Sì. L'esiliata torna a farsi vedere nel cuore del vecchio Egitto. Il giovane Ptolomeo non ne sarà felice. Vederti mi scalda il cuore, Bayek. Aia. Sei tutto ciò che mi è rimasto. Ti voglio sempre al mio fianco. Sono vincolata al servizio della regina. È il nostro vincolo. È più importante che mai. Ma sappiamo di cosa è capace l'ordine. Possiamo combatterlo restando insieme. Ho dato la mia parola alla regina. Cosa ha fatto lei per te che io non ho fatto? Spinge il mio sguardo fino all'orizzonte. Piangerò sempre la nostra perdita. Sempre. Ma abbiamo responsabilità che vanno al di là del dolore. Perché nessuna madre viva quello che ho dovuto vivere io. Quando ucciderò la lucertola? Quando l'avrai uccisa. Lascerò Manfi. E allora ti seguirò. Andremo a caccia insieme, come un tempo. Hai parlato di sogni che ti preoccupano. Vuoi raccontarmi cosa hai visto? No. Non voglio turbare anche te. Un giorno dovremo parlarne. Quando la sabbia si calmerà. Quando la sabbia si calmerà. Da dove cominciamo? Va al recinto del Dio. Parlerò alle sacerdotesse. Ma certo. A me il compito più ingrato. Pascherempta fa assaggiare l'acqua destinata al Dio. Il tuo pelo ha perso l'ustro, Dio splendente. E i tuoi fianchi sono svuotati. Che ha tortidia forza. Tutte offerte per il toro. Niente di strano. Ehi! Hai nutrito tu il toro api? No. Sono le sacerdotesse a occuparsi di tutto. Sai dove tengono il suo mangime? In quel posto, vicino alle scale. Ma da quando il toro si è ammalato, lo tengono chiuso. Ti ringrazio. La malattia del toro forse è causata dal cibo. Ma è presto per dirlo. Mi servono altre prove. Cibo per il toro. Il resto forse si trova in questo capanno. Noccioli di pesca. Se il toro api li ha mangiati, il motivo del suo male è chiaro. È questa collana. Una delle sacerdotesse gemelle ne indossa una simile. Allora, scopriamo se all'altra manca qualcosa attorno al collo. Salute a voi, sorelle. Come pensavo. A una delle sacerdotesse manca la collana. Da quanto prestate servizio nel tempio? Due mesi. Questo è un modo scaltro di avvelenare un animale. Sorelle mie, è stato un incidente, vero? Uno, forse. Ma così tanti. Dovevamo salvare Pancrati. Ehi! Chi? Nostro fratello. I banditi lo hanno rapito mentre eravamo insieme al mercato. Ci hanno costretti ad avvelenare il dio. Avrebbero dato a nostro fratello impasto ai coccodrilli. Non abbiamo chiuso occhio da allora. Mi dispiace molto. Non avevamo scelta. Noi non... Qualcosa non va. Non sono maledizioni. C'è l'ordine dietro a tutto questo. Va al tempio di Hathor senza di me. Non posso lasciare le gemelle ora. Questa è casa mia. Prima di entrare, dobbiamo parlare. Ci siamo. Preferisco che le mie sorelle non sappiano ogni dettaglio. Ma certo. L'uomo che ha voluto il mio rapimento è un sacerdote di Anubi al grande tempio. Uno dei sacerdoti di Pascherempta. Come lo trovo? Indossa una sciarpa blu e tossisce di continuo. La lucertola. So come trovarla. Ok. Pancrate! Sei ferito? Che cosa ti hanno fatto? Mi tenevano legato. Mi davano soltanto qualche crosta di pane secco. Allora? È opera della lucertola. Dovrò sporcarmi le mani con il sangue di un altro sacerdote. L'ordine è ovunque. Per salvare l'Egitto ucciderei anche un migliaio di sacerdoti. Siamo votati alla violenza. Ora. E sempre. Dobbiamo dirlo a Pascherempta. Ci attende al palazzo. Ho preparato dei cavalli. Oh ragazzi livello 25. Sapete cosa vuol dire? E su sapete cosa vuol dire? Attrezzatura. Arco. Arco leggendario. Buon meteo. Questo qua. Ragazzi lo possiamo anche smontare. Tanto abbiamo questo qua. Ok. Molto bene. Questo qua invece serve al livello 26. Ovvero al prossimo giro. Guardate già comunque tante cose leggendarie ragazzi. Stanno cominciando da vera. Quindi molto bene. Non posso perderli. Devono sapere che la mia voce è quella della Dea. mia regina. Il toro api continua a stare male? Abbiamo scoperto il motivo del suo male. È stato avvelenato. Chi è stato? Le sacerdotesse gemelle. Che siano bolliti a morte nel toro di Falaride. Mia Dea no. Sono state costrette. Il fratello è stato rapito da un sacerdote di Anubi che aveva la tosse e una sciarpa blu. Etepi! Ma è uno dei miei più fidati consiglieri. Chi rimane all'ombra di qualcuno è colui di cui bisogna dubitare. Se anche Etepi trama contro di me... Tua moglie e tuo figlio erano in pericolo. Ma ora sono in salvo. Possiamo sistemare tutto. I sacerdoti di Anubi hanno in programma dei rituali al Grande Tempio. Avranno delle maschere. La mia lama sarà altrettanto efficace. No, Aya. Vado io. Non mi interessa chi ucciderà il sacerdote, che sia fatto prima della partenza per Heracleion. Aspetta! Che il padre Ptanun infonda la sua forza nel tuo braccio. La lucertola, signora. Ok ragazzi, abbiamo un bel po' da fare a tanto pare. Ok ragazzi, allora, direggiamoci in questi punti e vediamo cosa c'è da fare. Di quante tempi si nasconderà i suoi fratelli? Un sacerdote di Anubi. Ah, lì. Sarà Etepi. Ok. Allora, secondo su, grazie. Voglio capire qua. Lui, Luon Kacetko. un altro sacerdote di anubi ok ci avevo messo un po ragazzi però va buono praticamente beh allora indosso una scelta blu e una torse costante si trova nel tempio di path e uno dei cinque sacerdoti con la maschera di anubi ok ci lasciano passare solo uno di questi sacerdoti merita la morte non posso sbagliare infatti come vi stavo per dire ragazzi sicuramente ci faranno scegliere chi uccidere e se sbagliamo subiremo delle conseguenze probabilmente questo è una scelta blu ragazzi non credo sia dove perché non tossisce ancora andiamo a vedere altri obiettivi sento tossire è lui fatta 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 è stato veramente rapido 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 la lucertola il sacerdote che strozza menti io servo la tradizione egizia che però esige un prezzo assai alto innocenti mutilati bimbi strappati al ventre materno il gran sacerdote insozzato il suo nome era già infangato prima ma le masse sono le grigi degli dèi condotte dalla frusta del pastore sei uno di loro vai sei una pecora la volontà mi guida non la paura ah sì e chi ti sferza il dorso allora chi ti impone di sporcarti l'anima con il mio sangue io ho i miei dèi tu affronta i tuoi la tua morte porti con sé le maledizioni di menfi devo dirlo agli altri ok andiamocena perché qui ragazzi non è sicuramente il caso di uscire un po' di covardia ok entriamo in un tempio con un cavallo mia regina volevano solo proteggere la vita del fratello la maledizione è spezzata e tepi cosa l'ha spinto a cotale follia menfi è di nuovo vostra nostra ora che la faccenda è sistemata possiamo preparare la festa di api che i demoni si nutrano di etepi della sua anima aspetti anche i colpevoli della morte di Kemu lo stesso perché non si ricordasse che è il nostro figlio in teoria se non dicono la cavolata però penso proprio di si è detto guardando noi quindi che sia il nostro figlio sì 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 sicuro al 99% che è il nostro figlio che fosse il nostro figlio è morto eeeh ciao Alla prossima Alla prossima Dove ti porterà il dovere? A nord, darò fuoco al mare Io sarò sempre con te Un giorno Spero che cacceremo ancora insieme Ma per ora Godiamoci questa notte Ragazzi un altro obiettivo è andato Abbiamo deciso anche la lucerto Quindi dunque questo video può giungere al terra Esatto La lucerto è un obiettivo conquistato Bene ragazzi Io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video Vi ricorda di lasciare un mi piace Se vi è piaciuto il video Iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Seguimi su Instagram Link in descrizione Anche i componenti del mio PC Sono anch'essi in descrizione Se vi dovesse interessare Noi ci vediamo presto con un altro episodio Ciao ragazzi